Dovete provare assolutamente queste focaccine di patate cotte in padella Sono facilissime da preparare e possono salvarvi la cena Quindi allacciate i grembiuli che iniziamo Come prima cosa mettiamo a bollire 300 g di patate Schiacciamo ora le patate all'interno di una ciotola Come potete vedere non sarà necessario sbucciare le patate prima In quanto le bucce rimarranno all'interno dello schiacciapatate A questo punto inseriamo l'olio d'oliva Il parmigiano La farina Il lievito istantaneo E per finire il sale E iniziamo ad impastare Dividiamo ora il panetto in 9 parti uguali Stendiamo ora l'impasto con un mattarello Dobbiamo ottenere questo spessore A questo punto potete farcire come più vi piace Io in questo caso utilizzerò del prosciutto cotto e della scamorza affumicata Ripieghiamo ora i lembi in questo modo E sigilliamo l'impasto E la prima focaccina è pronta Ripetiamo lo stesso procedimento per tutte le altre E la prima focaccina è pronta Ora ci trasferiamo ai fornelli per cucinarle. Aggiungiamo leggermente una padella e facciamo cuocere le nostre focaccine per circa 7 minuti per lato. Se volete potete optare per la cottura in forno cuocendoli a 180 gradi per circa 25 minuti. Aggiungiamo le nostre focaccine. Le focaccine di patate sono pronte per essere gustate. Pronto e servito! Aggiungiamo le nostre focacine. Aggiungiamo le nostre focacine.